Riding to this world, all alone, God takes your soul, you're on your own The crow flies straight, the perfect line, on the devil's bed, until you die Siamo oggi, adesso sulla beta di Titanfall, ma su PC Io faccio sempre la stessa mossa, siamo partiti, modalità Attrition Vediamo un po' se su PC mi dice meglio, non lo so Oddio, non mi diceva malissimo su Xbox One Ora sapremo la verità Ora vediamo un po', dove stanno i nemicioni Stanno qua su E vedete che dice bene Subito una kill, e subito la morte, vai Subito la morte Su PC sto giocando, ovviamente col pad, perché sto gioco, secondo me È da giocare col pad, guarda sto stronzo Bastardo, mi devo fare... mi scordo sempre dell'invisibilità Guarda, guarda come mi ha ammazzato Sto zompando come alo, capirei? Questo è il mio verero A giocare tipo alo, capito? E... No, era un amico, che cazzo mi sparo? No, no, l'amico gli ho sparato... mi ha tirato una granata Ti vedo, scemo, però non t'ho ammazzato E vabbè, quando mi arriva il Titan? Quando mi arriva il Titan? Datemi il Titan Datemi il Titan Titan, Titan Arriva già nemico, scappa Eccolo il Titanino Speriamo che non mi ammassano nel mentre Perché me lo dai troppo al culo Vieni, vieni da papà, vieni Eccoci E andiamo Mo se ragiona Dove state, brutta merda? Dietro Yeeeh Becca, stronzo Aia Non me li Firebotto, firebotto, firebotto Vedi che zompi T'ho ammazzato io T'ho ammazzato io Eppure No, 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 fammi recuperare Fammi recuperare Dov'è sta merda? Orca pupazza Che mi ha secchiato? Ah, da solo Come un idiota Benissimo Spawn as a pilot Ok Spawnamo come piloti No Ho ciccato L'intervento Che ragazzi Che grafica Da dove cazzo Sbucano questi Da qua giù E uno l'ha mosseccato Eh, va bene Oh, 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 oh Eh, eh, oh Beh Fammi dare un occhio qua Vedete c'è qualche stronzo Oddio, sono caschiato Ecco, dovevo dire No, bastardo Come hai fatto a ammazzare? Guarda questo Corpo solo Secco Mortacci tuoi Ma Montecirco Dove sei? Ragazzi, sto gioco comunque Al di là di tutto Se ne è detto di tutti i colori Manca la fisica Vabbè, manca la fisica Ma voi giochi Mai Cioè Questa è un'opinione personale Per carità Ma è meglio Un gioco pieno di fisica Ma pieno anche dei camperoni Tipo Battlefield E per carità Stupendo Battlefield 4, no? Tanta fisica Sbrago Certo, sarebbe stato figo Sbraga un palazzo Pieno dei cecchini Che ti rompono il cazzo Ha fatto pure la rima Però, dico, no? È meglio Un gioco pieno di camperoni No, Mortacci tua Ma perché mi vedono sempre? Beh, 4 Un Titan uncciso E 7 minion Non è malaccio, dai Potrebbe stare meglio Io però lo metto qui Il mio Titan Che arriva Vieni da papà Bravo Kiko Eccomi Dai Gundam Andiamo Preferite? Cioè, ritorno al discorso Visto che mo' c'ho tempo Che non devo far che impede 5 minuti Ve lo faccio lungo E non me lo pede il cazzo Se vi piace Poi lo vedete Se non vi piace Come vi pare Fate come volete Oh, dico È meglio Un gioco tipo Battlefield 4 Con Tutta la sua fisica E tutto quanto Lascia stare amico mio Sa Oppure un gioco Con questo Che è praticamente Puro divertimento Mi sono cagliato Cioè, questo È un gioco È veramente divertimento Allo stato brado Non dovete pensare tanto Non dovete andare a fare chilometri Questo l'ho Distrutto Non dovete fare chilometri Per andare a trovare qualcuno da ammazzare Entrate Sparate E cercate di diventare bravi Tipo Call of Duty Però c'ha Dalla sua Il fatto che Ci stanno sti Mac Il gioco è fluidissimo Boh Non lo so Sento gente che se lamenta Ancora prima di giocare Ho già dalla beta Non Non Boh Non vi sto a far Non vi linko commenti Di altri Che fanno gameplay Ognuno Per dire che quello Non capisce un cazzo C'ho ragione io Magari non capisco un cazzo io Per carità Però io Guardate che roba C'è la postenza Soltanto di Ecco è finita la partita Vabbè Quanto abbiamo fatto? Beh quel penultimo 4-1-7 Sempre lì Sono rimasto Sono morto sei volte Vabbè Ehm Eppure vero che Che è questa La seconda partita La seconda partita Che faccio Cazzo volete E vai Altra mappa Prima abbiamo fatto Abbiamo usato il rifle Ma adesso proviamo a usare l'assassino E come tank E come Titan Proviamo il tank Ok Qui abbiamo una pistola Smart Tipo una smart pistol Una smart gun Praticamente inquadra i bersagli Vedete Nel raggio d'azione Compreso fra queste due asticelle Ragazzi che cazzo di grafica Mi piace da morire a me sto gioco Vabbè Ehm Parte per la grafica Proprio per Per la fluidità E tutto Ok Noi andiamo adesso in giro Con questa pistolina Del cazzo Però abbiamo anche La dotazione Credo No Non ce l'abbiamo Perché Ah sì E questa è l'arma Ammazza Titan Che si Ehm Estrae Premendo la croce Direzionale A sinistra Ora andiamo Con la nostra pistolina Stupidottera Lo sta sto dizio Io l'ho visti Stanno da sti vizi Vedete Un colpo Va direttamente al bersaglio La smart pistol Secco Vedi Lo inquadra Se ce ne stavano di più Ne ammazzava di più No Li voglio io No Puttana vacca Schifosa Non cazzo Se l'ha messo Mi seguiva Mannaggia Vabbè Spammiamo come pilota Vediamo se ci abbiamo Sì L'invisibilità Dura Ci abbiamo anche L'invisibilità ragazzi Qui non è che Se fanno manca niente Falla dietro la merda Forca puttana Te corrono appresso Cazzo Non è che mi fanno Pazzire a me E' figa sta Metti le groglie Vaffanculo Cazzo Secco Visto come si fa Entri e mazzi Ora dove sono i nomini Gli ominidi Gli ominidi Della terra del fuoco Eccolo qua uno Vedi Quando ci va che ha la pistoletta Io tengo Dimmi te Oh 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 E andiamo Ma chi sei Ma chi sono io Dai ecche ne altri Dov'è sta Ah In alto mi perdo Divertimento Gusto allucinante Dov'è Dov'è Oh Mi sono giocato l'invisibilità Camminando su Poi tetti Insieme a te Dove stanno i nemici Porca vacca La puttana Vediamo se nascosti qua Perché sennò Eccilo Dytan Dytan Ogni volta Arriba Gio' nemico Scappa Mò tirò un po' il culo Dytan Loga Orco ne sa che enduro un cazzo Titan attenzione attenzione Titan evviva Titan 3 e invece è andato giù e te la pinter cu ah 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 mo cerchiamo di ricchiapparci un attimo dai ragazzi vi copro vieni a me dai dai Titan a rotta a go go parata buffo dove sta che me devo agliettare cerchiamo di recuperare un po' va dove siete ragazzi vi sento ecco devo dire questo è appena nato per carità questo mi spacca il culo andamose andamose chi è che mi spara ero un pericoglione io salto ciao ragazzi sarà un piacere da notare mentre stiamo per partire che io sono l'unico di livello 2 c'è un poraccio sopra me soltanto di livello 4 sono tutti già 14 14-12 questo 9 vabbè sono di livello 2 quindi non rompete troppo il cazzo non pensate che date me il modo questa è la terza partita che ho fatto e abbiamo pure vinto tra parentesi tipo tutte e due anche quella di prima e mo vediamo vediamo un po' piano piano prendendoci la mano come come va aspettiamo ci metto un po' a parte starting in 12 minutes in 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ignition benissimo abbiamo fatto l'assassino sempre su attrition facciamo il cqb non so che è vediamo ah con il vabbè con il coso ah per cui ci abbiamo ancora il tank io ritornerei sull'assolto che mi ha dato più gusto quindi abbiamo oh la mappa quella di prima mi dispiace per voi devo far vedere qualcosa di nuovo ma d'altronde è una beta vi voglio soltanto far vedere tutte diciamo le classi per il momento sono solo tre io me nascondo un attimo per chi non si sa mai la velocità con la quale ci si può ci si può arrampicare sui tetti è qualcosa di fenomenale gioco veramente di bello a parte fluidissimo ecco di chi è tutti qui state com'è ah quindi mi sa che stanno là dentro ma per che cazzo state a fare ma che fate che è state già a bagare già baggano questi ma io perché me devo esporre per voi ma si perché se no non mi diverto cioè non è che mi ammazzano per davvero quando stanno i nemici certo quando dico quando stanno i nemici me ne esce una di ora e me lo ficca davvero in quel posto oh un po' mi frenetico datta in culo chi è? ah no porca puttana uno da dietro ma cazzo non c'era nessuno dietro ma manco non è stato manco uno vabbè spannamo come spannamo come piloti va mi piace camminare a volte anche non è detto che dobbiamo sempre il soppac come grilli qui eh non è che mi ha visto di più ragazzi ci sto a caricare ma non vedi quanti siete oh livello 3 e andiamo oh 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 cazzo occhio che c'è stanco su qua eh attacci tua non sono riuscito a cambiare l'arma in tempo ma vedi questo con i carci ahah adesso pezzo de merda il mio titan qui deve venire qui il mio oscuro eccolo chico vie vie che mo ce vamo però magari mettecete meno pe pezzo de merda scappo 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 cerco di no non riesco non sono riuscito a star tagliere sopra chi è merda vedi come morono però in beta eh stai aspettare eh madonna raga che cacciara che sta al volo che ho ammazzato chi è mi ha ammazzato pezzo de merda qua sopra che cecchina eh vabbè che ha la pistoletta 60 secondi per un altro titan e vabbè l'aspetteriamo la cosa ecco ho notato che non ci si sdraia vabbè fai 200.000 cose va bene che cos'è che cos'è guarda come è sparito dove stanno mortasci tuoi guarda come si camperano marda mi nascondo qui io devo cercare di andare in alto perché in alto te puoi proprio nascondere si vabbè mortasci tuoi ma a modo ti rientro portai da nino che magari non prendo qui perché sennò se incaglia la sopra dai ah sono due laggiù l'ho visti porca vacca mi spaccano il culo tutti ha presi tutti 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 proprio tutti ha presi si un po' me lo apro su un po' match complete 200 victory ricarichiamo no no dove stai dove stai dove vai dove stai dove stai dove stai dove stai il punto che li trovo qua via che arrivo corre pure il titan la caduta dei titan eccoci no andiamo da qua dov'è magari trepi no non l'avevamo fatta mazzate dai i corpi di merda bucci che culo se ne sono nati vabbè voglio far notare abbiamo sempre vinto abbiamo vinto quindi ti è sac sempre penultimo due due piloti uccisi stavolta un titan buttato giù uno butto giù sempre c'è poco da di vabbè c'è chi fa sempre peggio di me cazzo volete no capito abbiamo cambiato la modalità ci abbiamo anche la nostra bella modalità dominio andiamo a conquistare A B E C e bla 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 questi perché cazzo stanno fermi non ho capito quelli che sono i camperoni che vengono da Call of Duty no o da Battlefield dicono che cazzo facciamo qui se vogliamo camperà che se può fa che fam guarda dove stanno dove c'è coglio come si fa per catturare devi stare sopra eh l'ho ammazzato io bello c'è prova abbiamo catturato B oh vedi sono riuscito a catturare B che cazzo qui c'avete un Call of Duty che vi piace tanto con in più però no ma che cazzo almeno mori però no come mi ha ammazzato ah la granata bastardo non l'avevo visto dicevo un Call of Duty però c'è la possibilità pure di prendere i robottoni ma che cazzo volete le più da che ridicate dicevo il discorso di prima lo riprendo si non c'è la fisica non si sbragano i palazzi è quello che vi pare però cazzo questo gioco è dannatamente divertente cioè non so che cristalola vorrete da da videogiochi questo è un gioco divertente che l'hanno fatto per divertire è fatto bene cazzo volete vi dico sul pc come sta a girare sull'xbox one gira da paura boh ancora che mi è venito a parlare di cose di killzone con tutto rispetto non è un mio essere di parte nei confronti di microsoft piuttosto che casco casco non casco piuttosto che piuttosto che diciamo killzone non voglio essere di parte ripeto ah io pensavo che era qualcuno dei nostri dove dove andrà mi sono sbagliato ok mi sono un attimo uncagliato scusatemi quando mi dai titan quando mi dai titan quando mi dai titan quando mi dai titan non è che mi piace di più va porca vacca se sanno lo sparavo boh oh mettiamo qua vicino va che è meglio zitti che vi faccio vedi quando arriva mi fa tagliare poi mi romperò il cazzo sicuramente di giocarci perché a lunga poi come con lo zuri poi rompe pure i coglioni cioè non è che devi stare per forza sempre a giocare così però è figo voglio dire a me mi diverte molto di più rispetto a quello vedi ma molto di più dove stai a me? tutti dopo tirati eh tutti bacca dal cazzo oh oh mi mette qua sopra che se ci riesco te sono un po' sopra brutto stronzo che mi hai ammazzato dov'è? d'è nato? oh era grosso eppure eh ecco te via qua vicina te qua vicina te qua mi nasconde eccoci qua no mi ha ammazzato a me quell'altro visto che c'è stavo io e ho sparato l'amico mi ha ammazzato a me però gli sono andato in groppa vaffanculo allora ma senti? molto frastuono senti che poi ci stanno dei momenti di calma chi è? senti che brutta quello era un minion quelli con subito ha scritto spectre sono minions nooo ma vedi ecco la differenza erminion more e l'uomo no vabbè vabbè la modalità dominion non fa per me per il momento devo giocarci un po' di più e questo è poco ragazzi se vi è piaciuto spolliciate sempre come al solito o sopra o sotto quindi o pollice in alto o pollice in basso commentate condividete siamo un canale giovane nuovo da poco che ci stiamo non è tanto se incelate la mano qui morimo pratica quindi basta commentate condividete qualcosetta e alla prossima sempre da clanofgamers.it e dal vostro Sam Crow ciao